Disporre di un parco di informazioni libere e soggette a prodotti e valori aggiunto è una chiave essenziale per lo sviluppo del sistema economico del Paese o dell'area regionale in ambito europeo e quindi è uno strumento importante di cui noi possiamo far uso per contribuire allo sviluppo culturale ma anche economico del nostro sistema. Abbiamo oggi il piacere di incontrare un giurista esperto nel campo della riproduzione dei beni culturali. Parliamo del professor Giorgio Resta, ordinario di diritto privato comparato all'Università Roma 3 noto per aver scritto numerosi contributi sulla libertà di panorama. E' sua anche la voce il regime giuridico dell'immagine dei beni culturali per la Treccani. Professore, buonasera. Ci puoi spiegare che cos'è la libertà di panorama? Quali sono i principali Paesi europei che sinora l'hanno adottata? La libertà di panorama consiste essenzialmente nella libertà di qualsiasi individuo, persona fisica o persona giuridica, di riprodurre liberamente beni, monumenti, beni architettonici che sono posti liberamente sulla pubblica via. E la libertà di panorama è stata riconosciuta sin dai primi del secolo, primi del Novecento, in alcune legislazioni importanti come quella tedesca, la legge sul diritto d'autore tedesca, che prevede la possibilità per chiunque di riprodurre liberamente, quindi in deroga, al diritto d'autore che sussiste su, per esempio, un'opera architettonica, per finalità le più varie. Poi vi sono alcune legislazioni che limitano questa libertà di panorama soltanto alle riproduzioni che non hanno uno scopo commerciale. Per esempio la legislazione inglese, se non erro, ha questa limitazione, mentre invece la legislazione tedesca, oltre ad altre normative europee, dà la possibilità la più ampia possibile di riprodurre. Qual è la logica sottesa della libertà di panorama? Negli anni 20, un giurista francese molto famoso, Rouas, scriveva che il paesaggio appartiene a tutto il mondo. Chiunque ha la libertà di vedere cose che siano liberamente visibili, e oltre a vederle, le può disegnare, le può riprodurre pittoricamente o fotografare. La logica è quella per cui tutto ciò che è liberamente visibile sia liberamente riproducibile. In realtà una forma di libertà di panorama parziale, attuata nel rispetto del diritto d'autore, secondo lei sarebbe consentita dal codice dei beni culturali. Lei sostiene però che questo limite del lucro, rispetto alla libera diffusione di immagini, sia applicabile solo ai beni culturali conservati negli interni. ci può spiegare meglio questo? Sostanzialmente gli articoli 107 e 108 del codice dei beni culturali, che derivano dalla legge Ronchei dei primi anni 90, erano stati introdotti per rendere possibili alcune forme di valorizzazione dei beni culturali che sono in consegna alla pubblica amministrazione. Il codice prevede la necessità di ottenere un'autorizzazione e pagare un cannone per la riproduzione di quei beni che sono appunto in consegna. Ora questo regime ha senso per tutti quei beni che richiedono un accesso fisico al luogo di conservazione, che quindi la cui riproduzione implichi ad esempio l'utilizzazione di dispositivi con treppiedi e via discorrendo, che possano limitare la fruizione materiale del bene stesso. Ma se noi pensiamo a tutti quei beni culturali che sono siti sulla pubblica via, siano essi privati o pubblici, da Palazzo Grazioli al Colosseo o Palazzo Farnese, beh la logica dell'autorizzazione e del pagamento del canone perde qualsiasi senso, perché quei beni sono liberamente visibili, come tali non c'è alcuna ragione per cui non si debba poi avere una libertà di riproduzione. Ovviamente il tema che deve essere posto è se esiste o meno un diritto di proprietà intellettuale su quei beni siti al di fuori, diciamo, delle istituzioni di cultura. La logica da cui muove il nostro diritto vigente è quello per cui se non vi è una specifica restrizione operata dalle leggi, dal codice civile, dalla legge sul diritto d'autore, la libertà di riproduzione deve considerarsi la regola, perché è conforme al principio costituzionale della libertà di informazione, ai principi della Carta Europea dei diritti fondamentali della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e risponde a una logica direi proprio economica di fondo, cioè le restrizioni, la creazione di diritti di proprietà hanno senso rispetto ai beni materiali per assicurare una fruizione congiunta da parte di più soggetti di beni che sono deperibili se consumati eccessivamente da più soggetti. Per i beni immateriali, come l'immagine, questa logica della privatizzazione non ha senso, perché del medesimo bene possono godere contemporaneamente più soggetti senza che appunto il godimento stesso ne sia impedito. Dunque, conclusivamente, ritengo che quelle norme del codice dei beni culturali, che pure sono state migliorate nel 2017, precedentemente anche con il decreto Art Bonus, nel restringere il dovere di ottenere autorizzazione canone rispetto alle utilizzazioni che non abbiano scopo di lucro, si debba essere inteso come limitato soltanto ai beni che sono ad accesso vincolato, mentre i beni liberamente visibili dovrebbero ritenersi di libera fruizione da parte di chiunque per qualsiasi scopo commerciale o non commerciale. Questa è l'unica risposta che è coerente con la logica di fondo del sistema giuridico dei beni. Veniamo al problema del lucro. Far valere i diritti su immagini di beni culturali pubblici, di pubblico dominio, non sarebbe come concepire una forma di diritto d'autore su beni culturali che in realtà ne sono privi, per definizione? Penso che in realtà il risultato sarebbe sostanzialmente analogo, ma questo è estremamente preoccupante. Se riflettiamo sul fatto che per esempio il diritto d'autore viene riconosciuto rispetto a opere che abbiano dei requisiti di creatività, di innovatività, di originalità che legittimino quindi l'attribuzione di un monopolio di sfruttamento e che soprattutto il diritto d'autore ha una durata limitata nel tempo per 70 anni dopo la morte dell'autore, noi verremo a creare una sorta di monopolio di sfruttamento rispetto a beni che non devono essere prodotti perché sono già esistenti, pensiamo semplicemente al Colosseo oppure alle piramidi, e peraltro non sono limitati nel tempo perché durerebbe questo monopolio di sfruttamento pubblico per un periodo illimitato e che evidentemente andrebbe a danno della libera circolazione delle idee e del libero accesso alla conoscenza. Se c'è un problema con cui ci confrontiamo oggi non è tanto l'assenza di sufficienti diritti esclusivi sui beni, ma è l'eccessiva presenza di diritti esclusivi e rendiamoci conto che più un monopolio di sfruttamento creiamo più è difficile creare attività innovative di plus valore. Se io oggi devo fare un film e esiste un diritto esclusivo sui beni liberamente visibili, dovrei ottenere il consenso di tutte le centinaia di persone che sono titolari diritti sui beni siti sulla strada pubblica, il che evidentemente come si può ben capire rappresenterebbe un bonus significativo la libertà di espressione, la libertà di creazione artistica. Quindi, benché vi siano dei modelli come quello francese che stiano seguendo questa strada della monopolizzazione, dello sfruttamento dei beni pubblici immateriali, io credo che l'insegnamento che viene dalla tradizione nordamericana e statunitense del libero accesso e del libero riutilizzo delle informazioni del settore pubblico sia invece la strada più fruttuosa e soprattutto più coerente con i valori scritti nel nostro testo costituzionale. Parliamo di Wikilabs Monuments, il concorso fotografico promosso da Wikimedia che ha permesso sinora pubblicare in rete un gran numero di immagini del nostro patrimonio culturale con licenze libere Creative Commons che prevedono la possibilità di un riuso commerciale. Nello stesso tempo, il Ministero dei beni culturali sta mettendo a punto una digital library per la digitalizzazione del patrimonio. Pensa che l'adozione generalizzata di licenze libere anche da parte del Ministero possa essere uno strumento utile alla valorizzazione? E se sì, in che misura? Guardi, in primo luogo direi che l'utilizzazione delle tecniche digitali e gli investimenti sulla digitalizzazione del patrimonio culturale sia una delle cose più importanti che può fare il nostro Stato, la nostra pubblica amministrazione. Che però questa digitalizzazione poi debba essere sfruttata attraverso strumenti di esclusiva, accordi di esclusiva, non è una buona politica. Sarebbe invece da sostenere, anche perché è conforme agli orientamenti dell'Unione Europea con l'ultima direttiva del 2019 sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sostenere un sistema di licenze che rendano il patrimonio fruibile nella misura maggiore possibile e con licenze a carattere non discriminatorio. Dunque se queste licenze servono a rendere il patrimonio culturale più facilmente accessibile e abbassando quelli che gli economisti chiamano i costi di transazione cioè l'incertezza circa il sistema giuridico di protezione, circa l'esistenza di titoli esclusivi, tutto questo va a vantaggio della produttività, va a vantaggio della creazione di servizi a valore aggiunto e non dimentichiamo che in un mondo nel quale ci avviciniamo alla diffusione sempre crescente dei prodotti dell'intelligenza artificiale, disporre di un parco di informazioni libere e soggette a prodotti e valori aggiunto è una chiave essenziale per lo sviluppo del sistema economico del Paese o dell'area regionale in ambito europeo e quindi è uno strumento importante di cui noi possiamo far uso per contribuire allo sviluppo culturale ma anche economico del nostro sistema. Grazie a tutti!